Noi siamo in ritardo, lei si ricorderà in tutto il nostro paese c'è stata una lunga discussione con la Fiat che poi è diventata FCA, poi è diventata Stellantis. Noi è da anni che diciamo che bisognava investire anche sulle nuove tecnologie, sia idrogeno, sia elettrica, sia autolibidale. Vorrei ricordare che in questo paese per anni sia l'azienda sia quelli che erano al governo sostenevano che l'auto elettrica era una follia, che non bisognava affrontarla. Quindi noi stiamo come paese, stiamo pagando anche un ritardo per scelte sbagliate che abbiamo fatto. Oggi sicuramente la Cina sul settore è quella che ha investito di più e più avanti. Il nostro problema non è portare tecnologie, dal mio punto di vista è fare in modo che anche produttori cinesi vengono non a vendere, vengono a produrre. In Italia vengono a produrre in Europa e allo stesso tempo siccome noi in Italia abbiamo Stellantis che oggi non è nemmeno più solo italiana, ma ha il controllo a maggioranza con la presenza anche del governo francese, c'è bisogno che qui si dica con chiarezza che tipo di investimenti fa. Oggi noi abbiamo una capacità produttiva di un milione e mezzo di auto, se ne sta producendo meno di 500 mila, la gente è in cassa integrazione e non è chiaro qual è il futuro delle nostre imprese nel nostro paese. Lei crede che se vogliamo riottenere l'obiettivo di un milione di macchine prodotte ogni anno non possiamo affidarci solo a Stellantis, ma dobbiamo chiedere aiuto ai cinesi? Io penso che noi potremmo anche produrne di più, intanto noi dobbiamo chiedere a Stellantis che sia davvero l'obiettivo di produrre non meno di un milione di auto, cosa che oggi non esiste, se ne producono meno di 500 mila e la gente è in cassa integrazione e in contratto di solidarietà. Quindi c'è un problema che si chiama Stellantis, ma c'è un problema che si chiama sistema con cui tu costruissi la mobilità e io penso che ci sia bisogno anche di nuovi produttori, anche perché se non vengono in Italia vanno in altri paesi europei, la ex Volvo è comprata dai cinesi, in Spagna ci sono già, in Inghilterra ci sono già. Quindi da un certo punto di vista è evidente che questo è uno dei temi, anche perché oggi il 30% del mercato mondiale di auto viene prodotto in Cina, non è più un mercato in via di sviluppo, è uno dei mercati maggiori e c'è un problema, insisto, di sistema complessivo, perché di d'ora in avanti la gente al limite arriverà non più a comprare l'auto, arriverà a comprare l'uso dell'auto quando ne ha bisogno. E questo da un certo punto di vista cambia anche il sistema e in più oggi l'auto è pieno di tecnologia, noi non abbiamo solo quelli che producono auto, noi abbiamo 300.000 persone in Italia che lavorano nella componentistica auto, che oggi di fronte alla crisi rischiano di saltare, noi stiamo chiedendo, e dovrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni al Ministero, stiamo proprio chiedendo che si facciano quelle politiche industriali, altrimenti il nostro sistema industriale rischia di saltare, questa è la verità. Allora, poco fa lei...